E' morto a 65 anni Giulio Petrilli, originario di Raiano, da anni residente nel capoluogo. Ex dirigente della Fondazione Comunista, amministratore Atera, all'età di 20 anni, nel 1980, era stato accusato dall'autorità giudiziaria di essere uno dei leader di prima linea, era stato arrestato con l'accusa di banda armata. Questa accusa le aveva comportato sei anni di prigione in un regime rigoroso simile al 41 bis, tuttavia in seguito la tesi dell'accusa venne smontata. Nel 1986 la Corte d'Appello di Milano l'aveva assolto, tre anni dopo anche la Cassazione aveva confermato la sua innocenza. Da allora inizia una vera e propria battaglia per i più deboli, in particolar modo per coloro che venivano detenuti ingiustamente. Era figlio dell'imprenditore Salvatore Petrilli, molto noto, Raiano, perché grande sostenitore e presidente del G.S. Raiano, negli anni 70, Petrilli è morto nell'ospedale di Avezzano, dove era stato ricoverato d'urgenza per embolia polmonare. La salma sarà tumulata nel centro peligno.